E' ottobre e le vetrine si colorano di scheletri, pipistrelli, streghe, mostri, zucche. Ma che succede? Halloween è alle porte. E a quanto pare anche qui in Italia c'è aria di festa. Ma non era una festa americana? Non ci resta che fare qualche domanda in giro. Cosa sai dirci della festa di Halloween? Che si festeggia il 31 ottobre. Ovviamente molti ci hanno detto che non festeggeranno Halloween. No. 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 Zucca. Ma in tanti hanno risposto sì. 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 Zucca. Ma non era una festa americana? Penso proprio di sì. Siamo un po' intrusi. Ormai non è più solo una festa americana, la festeggiamo tutti oramai. Una bella giornata di festa dove ci si dimentica un po' della quotidianità, si abbandonano le inibizioni e ci si diverte. Auli che è una cosa notturna? Una festa, noi la festeggiamo come una festa per andare a ballare, divertimento. Ci si maschera, le zucche. Non è una festa che io sento come italiano, mi sembra comunque che abbia dei valori positivi, insomma, è divertente. Da quello che abbiamo sentito, sembra che Halloween in Italia sia solo un'occasione per andare in discoteca mascherati. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo sulla pagina Facebook della nostra ambasciata. Scriviti al nostro canale